I gravi fatti di cronaca che negli ultimi giorni hanno interessato alcuni dei quartieri della città di Catania, come per esempio i gesti vandalici compiuti al Parco Falcone, all'Istituto Brancati nel quartiere di Librino, o il furto delle scarpe rosse da Piazza Vicerè, fanno riflettere sulla necessità di perseguire, incrementandolo, il processo di sviluppo delle periferie catenesi. Così dichiara Pina Alberghina, coordinatrice dell'MPA Catania. Rappresentano sicuramente un passo importante gli ultimi interventi disposti nella finanziaria regionale a favore della città, che permetteranno di portare a termine alcune significative opere di urbanizzazione nei quartieri. Come movimento però riteniamo sia necessario per questo nuovo anno un programma di riqualificazione di tutte le periferie, per far sì che diventino aria integrate con il resto della città, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze sociali, ma anche e soprattutto per promuovere uno sviluppo urbano più equilibrato e sostenibile. L'auspicio, conclude la coordinatrice dell'MPA, è che si giunga a realizzare d'intesa con l'amministrazione comunale, e su questo il Movimento si impegnerà a promuovere tutte le più ampie iniziative inclusive, sostenibili e innovative, una trasformazione dei centri periferici in aree vivibili e pienamente integrate con il resto della città. E sul deneggimento dell'Istituto Brancati è intervenuta anche la deputata dall'Assemblea regionale siciliana del Partito Democratico, Ersilia Saverino. I raid da parte di un gruppo di delinquenti alla Scuola Vitaliano Brancati di Catania, nel plesso del Viale San Teodoro, è un gesto sconsiderato che va punito in modo esemplare.